Mattinata senza problemi per gli utenti del lab vaccinale operativo dallo scorso 11 ottobre presso l'outlet Village di Città Sant'Angelo dove proseguono le somministrazioni dei vaccini anti-Covid, diverse le terze dosi effettuate. Sì, 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 sono sempre creduto, sì, non dando per me ma per tutti quelli che sono intorno. In fila c'è anche chi, incoraggiato dai dati positivi che arrivano e dall'obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro, ha deciso di sottoporsi al vaccino. Diciamo sono incoraggianti, quindi insomma il dubbio che c'era prima un po' è andato a scemare perché è tangibile che il vaccino abbia fatto la sua funzione. A seguito delle lunghe code registrate nei primi giorni di operatività del nuovo hub vaccinale, attivato dopo la chiusura del pallafiere di Via Tirino, il sindaco di Pescara Carlo Masci in una lettera afferma che la scelta fatta dalla ASLE di Pescara è una soluzione certamente non ideale che costringe anziani, portatori di handicap, persone non autosufficienti e le loro famiglie a sobbarcarsi una trasferta poco agevole. Ma il suo collega di Città Sant'Angelo non ci sta e va al contrattacco. Noi siamo a completa disposizione, non è una battaglia campanilistica da doversi apporre o da dover portare avanti. Noi siamo a disposizione della ASLE, siamo a disposizione di questa battaglia che deve essere comune, che deve combattere un virus e non certamente accontentare una parte politica che ha voluto tanto cavalcare questa battaglia, ma che poi essa stessa ha portato avanti il discorso della grande Pescara, che così come dimostra immediatamente essere del tutto, a mio parere, infondata, in quanto nel momento in cui si delocalizza in una zona che dovrebbe essere a pochi metri dalla grande Pescara, si aprono queste polegmiche come se fossero delle zone periferiche da dover dimenticare.